Io sono stanchezza, posso farlo a due anni, ma quando tu stai qua, tu vai con la mia madre, tu vieni qua, tu sei altra, tu ti metti vicino a lei, Mario lo metterei qua, forse diamo un po'. Però sempre con la potenza si veda, tu arrivi qua, no mi trovo lì, no, sennò si è andato a tutti, magari poi faccio un giro, tu giri e ride. Giro e ben dietro. Non si presenta, va bene, anzi da movimento alla scena che si dalle lanza, e tutto quello che si può dire, va bene, non ci sono gente in callografia, poi si può essere un'idea. e poi poi ci sarà un'idea, dove si sta andando, quello è tutto, c'è il giudizio. Partiamo durante la cosa. Grazie. 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 Grazie.